La nostra idea è stata recuperare dei fine stock di tessuti d'alta moda con cui poi realizziamo la nostra collezione. A noi quello che interessa è poter attingere da tutto questo grande bacino che è proprio la tradizione del saper fare italiano. Per cui poter andare in queste industrie dove ormai da secoli si produce questa stoffa, per esempio questa gonna, è una bellissima crepe di lana in cui un artigiano addirittura ha fatto tutto il pizzo che non è un'applicazione ma è un continuum con la stoffa stessa. Per cui ha veramente un grande valore proprio di artigianità e di lavoro. Poi c'è dentro la nostra interpretazione. Poi c'è dentro la nostra collezione. Questa sedia è una rivisitazione di una sedia disegnata da Salvador Dalì che è dipinta in un quadro. L'ho modificata perché mi sembrava più armoniosa così e è uscita questa signora, questa bella signora, secondo me è bellissima. L'ho modificata perché mi sembrava più armoniosa. L'ho modificata perché mi sembrava più armoniosa. L'ho modificata perché scoi in un'articastia. Alloga strada per Crowi. Grazie.